prepariamo un salvacena con patate, io ne utilizzerò 6, 2 mele, mezza cipolla, spezie quanto basta, olio basilico, parmigiano e il pangrattato grazie a tutti ed eccoli pronti c'è un profumino che non ti dico veramente sono straordinari ed ora li vado ad assaggiare e poi è un buon modo anche per far mangiare ai bambini la frutta allora sono croccanti fuori e morbidi dentro ecco qui che golosi buonissimi visto come rimangono morbidi all'interno grazie alla presenza della mela mamma mia che sono buoni il mio consiglio è quello di provarli fammi sapere inoltre se hai mai pensato a questo abbinamento e se ti piace questa idea se è così iscriviti e regalami un like e condividi questa ricetta sui tuoi social ciao